Buongiorno a tutti, col video di oggi proseguiamo nella lettura e nel commento del diario di guerra di Quirino Armellini. Stiamo vivendo in queste giornate raccontate da Armellini le fasi conclusive di un quindicennio in cui Pietro Badoglio è stato il capo di Stato Maggiore Generale, ha dettato nel bene o nel male, più forse nel male che nel bene, la politica militare italiana di tutte e tre le forze armate, perché come abbiamo detto il capo di Stato Maggiore Generale aveva la funzione di coordinare, di gestire un possibile impiego interforze dell'esercito marina e aeronautica sia in tempo di pace che in tempo di guerra, facendo anche da consulente del capo del governo. Non sappiamo come ha gestito in questi quindici anni l'attività in tal senso e purtroppo le evidenze ci portano nel secondo semestre del 40 a una serie di sciagure inenarrabili sotto ogni punto di vista e quindi i noti arrivano al pettine e sappiamo che fra poco arriverà Cavallero, ma poi tornerà pure Badoglio, un po' come il conte di Monte Cristo e pure Cavallero avrà i suoi problemi. Detto questo, siamo arrivati al 28 novembre e vediamo come si sviluppa questa faccenda. Giornata laboriosa e poco concludente. Dal duce piuttosto accigliato a ragione dell'Albania che torna a andare male, diciamo che andava bene poco, nessuno accenna alla crisi. Mi ha chiesto se Badoglio era partito e basta. Stato settembre Badoglio si è preso una sorta di periodo di riposo, di riflessione in attesa degli esiti delle sue dimissioni, sperando magari lui che lo richiamassero, magari pensando che lo richiamasse il sovrano. Lo richiamerà fra due anni e mezzo. Anche quando gli ho presentato un appunto del maresciallo che gli ricordava la nomina del sottocavo pintora del sottosegretario Guzzonio Monti, l'esonero di Soddu dalle due cariche e l'invio di un generale in Albania per l'organizzazione dei porti, nessun accenno ad entrare in argomento. E qui, diciamo, le cose ancora sono un po' in balia, perché appunto c'è anche il problema dei due incarichi, ossia quello del sottocavo di Stato Maggiore, del generale e di sottosegretario, che attualmente stanno ancora in capo a Soddu, che si sta cuocendo nel suo brodo in Albania. Parla invece della situazione. Considera oramai la Francia tutta decollista, compromessa la situazione in Tunisia, errore della Germania nel trattare la Francia troppo bene, è invidioso probabilmente, eccetera. La spedizione Corfu cade, non le si attribuisce ora nessun valore, mentre fino all'altro giorno era ritenuta di capitale importanza. È imminente la sua effettuazione. Ora ha in mente uno sbarco a prevesa da parte di un intiero corpo d'armata rinforzato con 15 battaglioni camicie nere, onde raggiungere chissà quali sue concezioni strategiche, evidenti del resto, purché vi fossero le truppe e i mezzi per effettuarlo. E questo sarebbe un altro grande problema. Oltre a ciò, accelerare il rinforzo della quinta armata per essere pronti verso la Tunisia, addirittura, ancora non si è chiusa la questione verso l'Egitto, già si pensa ad andare in Tunisia. Mettere in ordine la quarta, verso la Francia, tenersi pronti per lo sbarco in Corsica, eccetera. Nient'altro proprio. Ci servirà compass per ripristinare un po' di raziocinio. Senza badare come al solito ai mezzi e possibilità. Di difficoltà niente parlare. Gliene ho fatto cenno e mi ha al solito risposto, virgolette, queste sono le difficoltà dei tecnici, bisogna superarle. È tutto un problema di natura tecnica che si può risolvere, secondo Mussolini. Finisce il virgolettato. Tutto ciò dopo i recenti promemoria dello Stato Maggiore Generale e dello Stato Maggiore Reggio Esercito che dovrebbero avergli fatto rizzare i capelli che non ha sulla testa. Interessante che qui, in questi giorni, sostanzialmente è Armellini che gestisce il Comando Supremo perché il capo non c'è, il sottocapo sta in Albania, anzi il capo è dimissionario, il sottocapo sta in Albania con altri problemi e capiamo bene che la situazione è quella che è. Uscendo dal colloquio ho visto Pavolini e gli ho parlato apertamente di tutti gli errori commessi soffermandomi sull'azione delittuosa della stampa per aver montato il blef della preparazione militare quando erano note le nostre condizioni. Pavolini che svolge l'attività di ministro della stampa e propaganda. Sembrava un cane bastonato, Pavolini, e non ha saputo dirmi di meglio che il paese è disilluso e chiede un capo espiatorio e questo non può essere che Badoglio. Quindi diciamo che tutti sono convinti che Badoglio debba fare il passo indietro per prendersi tutte le corpe. delinquenti, c'è il commento. Virgolette, se si tratta di un capo espiatorio glielo ho risposto, prima di Badoglio se ne possono scegliere 100, ad esempio voi e la vostra stampa. Così. Armelini si rivolge a Pavolini, non sa che Pavolini farà una carriera ancora più ardua, più promettente negli anni a seguire e sarà anche un bel problema. Finisce il virgolettato, quindi diciamo che a dare la colpa a Pavolini in quel momento forse non è il caso. Armelini poi fortunatamente ha altri protettori, ma non è molto saggio a fare queste affermazioni. In anticamera c'è anche Ciano, sostenuto, non era così qualche giorno fa quando ancora non sapeva chi sarebbe stato il capo espiatorio. Ah, perché probabilmente pensava di essere guidato lui. Stamane alle 9 ho anche parlato con sua eccellenza Lantini, che la pensa come me e con lui ve ne sono tanti altri. Ma nessuno ha il coraggio di agire, tutti oltre la paura hanno la coscienza della loro impotenza. A tanto siamo giunti, non c'è che lo stellone e il Dio che possano salvare l'Italia. Cioè, è proprio la provvidenza. Nell'ambiente rionale fascista pare si monti l'opinione pubblica contro Badoglio, non si sa ancora se per iniziative locali o per ordine dall'alto come è più probabile. Sono settari e pur di salvare se stessi sono capaci di buttare a mare l'esercito intero e tutta la nazione senza dare importanza ai loro atti criminali. Il paese è stanco e un passo falso potrebbe invece buttare finalmente a mare il partito. 29 novembre Ho visto De Bono e abbiamo parlato di un eventuale passo suo e di De Vecchi che è a Roma in questo momento presso il Duce ma nulla è stato combinato per la poca fiducia di riuscire in qualche cosa. Quindi neanche i quadrumvi ne riescono a agire. Mussolini mi viene a dire che il partito è estraneo alla propaganda fatta contro l'esercito la quale si deve attribuire invece a iniziative locali capeggiate da Ciano e Farinacci addirittura si tirano la palla Virgolette Bonsegno dice Cianetti mi ha poi detto che la cosa si deve aggiustare e si aggiusterà. Vabbè finisce il viubiettato. Azzon venuto dopo il generale di Carabinieri io non l'ho visto mi ha lasciato detto che la propaganda è in atto che il paese si sta dividendo in due partiti che si fa il nome di Cavallero come successore sarebbe il trionfo della più ignobile Cricca commenta Armellini perché su Cavallero diciamo che ci sono molte chiacchiere però diciamo che non è che tanto la Cricca di Badoglio può fare morale a nessuno comunque dal duce sebbene meno arcigno ma sempre con l'aria di essere offesissimo nessuna possibilità di entrare in argomento intanto in Albania si continua a indietreggiare il disagio aumenta il paese è in orgasmo la propaganda nemica lavora e la situazione generale peggiora la stampa inglese di ieri sera strano a dirsi metteva le cose a posto meglio che non sappiamo fare noi ironizzava sull'articolo di Farinacci e diceva chiaramente che il partito per salvare se stesso butta a mare l'esercito e i generali innocenti adesso i generali siano innocenti è un parolone però vabbè armellini non è che ci possiamo aspettare diversamente ho parlato con Roatta ecco lo stato maggiore reggio esercito è messo completamente da parte naviga in mezzo a un mondo di guai senza direttive ridotto ad un organo esecutivo del gabinetto e certo questo maggiore è a Tripoli dove si andrà a finire io proprio non so contemporaneamente ad una mia lettera scritta ieri d'ordine del duce per dire che Corfu è tramontato lo stato maggiore ne ha ricevuto un'altra da Sorice il quale d'ordine del duce ordinava di perfezionare i preparativi per Corfu a pochi minuti di stanza a due persone diverse il duce ha dato due diversi ordini uno contrario all'altro e tutti e due di grande importanza e di gravi ripercussioni nel mondo strategico non si cambia si era successo così anche per la Grecia oggi volevo parlarne con Sorice ma nel pomeriggio era introvabile qui sempre il particolare rapporto tra Sorice e Armellini che come sappiamo si ripeterà tre anni dopo sempre a Palazzo Venezia forse elaboravano insieme grandi cose infatti a tardasera la radio ha dato la notizia contenuta anche nell'ultima edizione del giornale d'Italia della nomina di Guzzoni a sottosegretario alla guerra e sotto capo di stato maggiore generale sostituendo Soddu in entrambe le cariche quindi finalmente a Roma abbiamo qualcuno che comanda che figura questi visto il brillante andamento dell'operazione in Albania è promosso generale armata ovviamente è ironico però lo scrive perché è una di quelle solite promozioni che vi dicevamo quindi che si promuove si era promosso vabbè o è un errore di stampa o un più colossale errore per potere a costo di ingiustizia e malcontenti agevolare un amico un protetto e un compito ma come dicevamo si promuoveva da solo Soddu quindi diciamo lui come sottosegretario è tramontato quindi il progetto Pintor delle dimissioni del marescello Badoglio non si parla chi è Badoglio chi è costui 30 novembre al rapporto dal Duce al Viminale dove vi era consiglio dei ministri l'ho trovato di buon umore tanto che ha approvato quasi la lettera e il bollettino mi chiede a che punto siamo per Corfu gli rispondo che il progetto Corfu in seguito all'ordine che mi aveva dato è stato abbandonato però si era dimenticato a chi aveva detto una cosa a chi è l'altro dimenticando l'ordine data storice afferma allora che Corfu non ha effettivamente importanza strategica alcuna e che l'unica cosa che utilmente possiamo fare lo sbarco a prevesa con chi parla si convince sostanzialmente se fare una cosa con l'ultimo che parla gli dimostra allora come perché Corfu abbia tuttora importanza di carattere strategico condivide le mie idee e si interessa di quanto potrebbe essere effettuato lo sparco ricambiate un'altra volta gli rispondo verso la metà di dicembre facendogli notare però che bisognerebbe sospendere tutto o buona parte il traffio in Albania il che non pare possibile conviene anche in questo e sentenza che se la situazione in Albania non è assolutamente sicura non si farà altro così in un quarto d'ora e con la più grande disinvoltura ha cambiato opinione almeno cinque volte sulla situazione in Albania si dimostra pessimista così sulla Francia per il progredire del movimento De Gaulle e ammette che due grossi errori sono stati commessi il mancato sbarco in Inghilterra e la nostra azione in Grecia il 30 novembre se ne esce con queste due grandi verità sull'andamento della guerra il mancato sbarco in Inghilterra dovrebbe lamentarsene con il suo degno compare e sulla nostra azione in Grecia proprio per dar fastidio al tuo degno compare hai fatto questa cosa gli parlo del progetto degli esteri per l'invio di armi in Palestina dimostrandomi contrario conviene che non se ne faccia niente è probabile che sulle rivoluzioni fomentate da Ciano non abbia più fiducia visto che gli ha dato questa bella notizia per il fatto che in Grecia ci sarebbe stata una sommossa tale da portare in pochi giorni in poche ore verso Atene Ciano è un po' diventato un po' lo zimbello alle 16 per appena 20 minuti ho parlato con sua eccellenza Guzzoni che alle 16.30 andava dal duce per il suo primo colloquio l'ho messo rapidamente al corrente di tutte le questioni più importanti in corso anche perché essendo il sottocapo di stato maggiore generale è diventato automaticamente il diretto superiore anche di Armellini sulle vicende del maresciallo si dichiara a conoscenza solo per sentito dire pensate un po' questo non mi ha certamente fatto buona impressione perché non vi è dubbio che da Sorice più di ogni altro al corrente di tutto sarà stato ampiamente informato di ogni particolare qui sempre il triangolo un po' abbastanza irto di sospetti tra lo stato maggiore generale e il ministero Guzzoni è stato lungamente dal duce poi è andato da Ciano ed è rientrato verso le 20.30 al ministero mentre eravamo d'accordo che sarebbe passato di qua per un secondo e meno affrettato con l'occhio Ubi Maior meno cessa se ti chiama Ciano che fai non ci vai è venuto Azzon secondo sue notizie il paese è in aria diviso l'esercio invece è concorde e indignato anche coloro che in genere ce l'hanno con gli stati maggiori virgolette la soluzione è grave dice bisogna aggiustare questa faccenda guai se se ne va badoglio questa è la la sentenza di Guzzoni vedremo che non andrà così i rapporti che giungono al comando generale dei carabinieri reali dalla periferia sono concordi a questo riguardo ma Gambelli attenua se addirittura non tace la verità mi disse poi che Gambelli vediamo chi è Gambelli Gambelli è comandante generale dell'arma dei carabinieri perfetto attenua se addirittura non tace la verità mi dice poi che Gambelli critica badoglio perché contrastava il duce evidentemente è della scuola di Soddu farà fortuna ma se anche i carabinieri reali ci mancano che cosa ci rimane più di sano è la domanda di Armellini sullo stato di salute della situazione sappiamo però che il comandante generale provenia dall'esercito direte ma proprio l'esercito però gli elementi sono quelli che sono e quindi sappiamo che in questo momento gli ambienti militari tecnicamente parlando non hanno un grande credito e poi arriverà Cavallero e la situazione cambierà nel medio lungo periodo con degli sviluppi che in parte già conosciamo avendo abbondantemente letto il diario dello stesso nuovo capo di stato maggiore generale quindi questo è sicuramente un elemento di passaggio che ci permette anche di andare a capire un po' le dinamiche interne che si respirano all'interno di Via 20 Settembre sui vari livelli diciamo ministero stato maggiore generale stato maggiore esercito e tutto ciò che ovviamente si inserisce all'interno di queste filiere di comando che possono essere tecniche politiche miste eccetera eccetera detto questo io come al solito mi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao